e riprendiamo come sempre da dove eravamo rimasti il Giro d'Italia parte da Abbiate Grasso tutti alla firma e partenza siamo dietro al numero 12 della G2R mondiale di fianco e lo superiamo Do you feel good with CeramicSpeed? Ha detto di sì, si trova bene con le culegge della CeramicSpeed e siamo insieme al Trek Segafreddo abbiamo incrociato Venni quick step qui abbiamo altre disco è vero, la UAE, la Astana, la Bardiani, la IF è vero io vedo il treno, è stato degno qui abbiamo l'Astana con la linea bici argon ed ecco luis leon sanchez il mitico dell'astana il compagno di Dumoulin ciao occhio in sky e vai pozzo vivo vai pozzo vivo vado 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.